E' prof ragazzi, bentornati in questa nuova modalità, cioè in questo nuovo gioco Roblox Siamo su una modalità molto carina, la Pizar Tycoon E non spiegateci... eeeh... Momofi diranno... E' un attimo, che state facendo? Stavo un attimo spiegando una cosa, ma c'è un idiota che ci viene contro E mi stavo asciottando male Ma ti viene contro e ti ammazza questo idiota Oddio, che succede... Perché è sponato un coso? Affaccio... Sono... sono esucite questi No, non spero... C'è questo che ti... Massacra male Ma è un hacker Uccide male, uccide male Eeeh... ho ucciso, ucciso Ok ragazzi, allora vi spiego un attimo cos'è questa modalità Ehm... praticamente Noi saremo dei maghi E saremo in team Tu nel frattempo fai fuori col tizio Mentre io spiego la modalità Ehm... mi sta sparando E che palle! Non si può neanche spiegare la modalità che qua tu uccidono Comunque noi saremo dei maghi E saremo in team Sono quattro team Nel frattempo io sto col mio amico Anditek Ehm... presto inizierà anche youtube E comunque dovremo fare... expandeci sempre di più A procurare un paio di cose Che creano dei blocchetti Tipo qua Creano dei blocchetti Ehm... Anditek che sta per si cliccando male Sto cominciando Eh? Ehm... 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 Genera ogni tanto... E nel frattempo la potion maker se era bugata male Comunque... Generemo... Oddio... Ho io il giallo! Ehm... sei tu il giallo! Sto... Mi sembravo che... Ehm... Pensavo che era bugato Stavo prendendo i soldi da te Ehm... 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 Ammazza uno... C'è uno dietro ammazzalo Ehm... 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 Comunque poi dovremo sbloccare sempre più staff Dovevo creare il nostro castello Power Dovevo sbloccare le scope che si troveranno nelle secondi No è un cheater! È un cheater! Che dovremo sbloccare Guardalo! Guardalo! Ehm... Che cosa sta facendo quel tizio? Vola! Come vola? Non è normale Non è normale Vola! Ok Ok Però non ha la scopa Ok ragazzi scusate un attimo il taglio Ehm... C'ho già un po' di money Quindi potrei già vedere Farvi vedere un po' meno un upgrade Ma no Poi siamo dei nambi Ehm... Che cosa bella Ehm... Comunque poi tu magari... Sbloccare le staff Oh! I rossi! I rossi sono messi male Vai a attaccare i rossi Cioè tu farm Aspetta Ok io farm Si Io farm che ho più money Ehm... Gli attacco Così vi faccio vedere un po' Come la... un attacco Qua è morto uno male No qua ci sono delle persone Perchè? Perchè c'erano le persone questo tenevano Mori c'è male Ehm... Ma mi ha chiesto l'amicizia stanabba Ehm... Mori c'è male Ehm... Comunque poi vediamo un po' di... Fare un po' di cosa Ehm... C'è lo stesso bug di ieri Cambia il pavimento Ehm... Ehm... C'è questo qua solo Lasciò la star No sono in due Sono in due Ho mazzato il suo amico Ci sono due... Due gust Due gust Non ne manca una staff Chi era il team che aveva le staff C'è un team che erano overpower Mi sa che se... E' erano i verdi Sono tutti resettati Vero Non vengono niente più Prima c'era uno che aveva tutte le staffe del mondo Tutte... Tutte... Quanti cash, eh? Duecentododici Ok vengo a prenderli Proprio di attività Puoi fare... Puoi fare il buio di Potion Maker Eh sì un altro Potion Maker Posso fare Ok presi Facciamo un Potion Maker Un'altra fabbrica Un'altra macchina Vedete come diventiamo sempre più potenti Rispetto agli altri E blu sono i... I nostri vari... I nostri vari... I nostri vari ora Anche se adesso pure i rossi e i verdi Diventeranno un po' overpower Perchè entrano pure gli altri Inequity Comunque Ah lui ha... Il nostro caro Andri Ha comprato Il coso che trasforma tutti i cosi Tutti i cubi in pozioni Così ci danno più money Non erro Ci danno più money Sì Comprà l'upgrade convert Guarda Cosa? Guarda le money già E' vero Stiamo a farmare un botto Ehm... Comunque io posso Si posso fare un'altro Posso un maker E' finito tutti i cosi Poi quando devo fare Double rooms maker Che cosa bella Ehm... Guarda già 116? Ah fuck Oddio Uno di verdi ha acquittato Uno di verdi ha acquittato Uno di verdi ha acquittato Uno di verdi Ah si acquittato WTF Che cazzo è successo? Ho cliccato troppo Ahahah Ragazzi è una bug Un'onda con un coso Iperettico Bug Allora c'è qualcosa che costa 500 Ah ma Da te Si sono i magical dropper Vedi i magical dropper Ah i magical dropper? Si Così otteniamo più soldi Qua questo magical dropper Oh e crea questo cappello Che ogni tanto dovrebbe E' fatti sputa blocchi Che c'erano sempre più money Oddio guardami money C'è uno scemo C'è un idiota A sparare l'idiota A sparare Sì io sparare l'idiota Perché stavano avendo le balle Mamma Tu fai 1.000 Prenditi 1.000 money Che ogni tanto facciamo il Il maker Il brew maker Mi sta sparare Mi riesce a sparare Mi riesce a sparare Mi si sta buggando Oh no ok Sta venendo in basso Sta venendo in basso l'idiota Inizia Ehm mi sta ammazzando No ok No metà vita Più metà vita O meno di metà vita Ehm Sono con tutto Sono in mezzo a due fuochi Tre fuochi Sono in mezzo a zero fuochi adesso Perfetto Ok grande Ne fa tempo ci sono i blu Che hanno quittato male Poverini No Guarda i blu Come stanno messi Come blu Stavano messi benissimo i blu La squadra blu Si stavano messi benissimo E cosa sapevano cosa Avevano il castello completo No ma io un attimo fa l'avevo L'avevo massacrato e non avevo un cazzo Non vaga Comunque ho comprato questo Che era il double blooms maker Tu potresti sbloccare la staffa del vento mi sa Ma no Compriamo dopo Si compiamola dopo Tanto la bacchettaggio è buona Eh si però Quella Dovessi Dovremmo comprare la small staff Quella che congiva No Ti immagini Ti immagini che era fighissimo Tipo Un modo tipo Tu entravi qua Diventavi E ti davano migliaia di cash Però era troppo facile Siamo Un modo super OP adesso Guarda Dove Due magical dropper È vero Guardate Vabbè Si andavano uno contro l'altro però Comincia a fare le mura Pecoli dettagli Eh Le mura Si le mura allora V1 Ecco qua Prima ci ho provato a registrare però era crashato male la mia connessione Anche se di solito Anche non so perchè ma è crashata veramente malamente Bello quella delle Quella delle Guarda 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 Non ci credo Wtf Ragazzi Deve milioni Eh Fai il secondo piano Fai il secondo piano Fai il secondo piano Voi faccio questo Ho sbloccato l'ultima staffa Non ci credo Ho sbloccato l'ultima staffa Non ci credo Sblocca queste cose Ah il piano di sopra Il piano di sopra Facciamo vedere il piano di sopra Tadà 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 Ma c'è un cacco Ok basta Possiamo comprare questo Perfetto Lo hai fatto il piano di sopra Posso comprare questo Posso comprare questo Ma siamo ricchissimi Facciamo ormai tutto ormai Wtf Raga Un bug Estremamente estremo Io sto spendendo tutti i soldi Ma fa nulla va Ah Si si Compra questo Pure questo si Questo non me l'ha comprato Che nabbo Compra si si ma compra Si ma dai Si si Ehm Si è bagato Per me quelli Tipo pensano che diciamo che noi siamo dei mega hacker Compro pure le mura Compro pure le mura Ta 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 Ok faccio tutte le mura Ora Ok Hai comprato poi una cosa del Compra tutte le scopre Così le facciamo vedere tutte Comunque Comunque Facciamo vedere tutte le staffe Vabbè tranne questa che è un po' inutile Che spavere Poi Questa fa Quelle Delle Una sfera Anche se magari la ve la vorrei far vedere Poi Ci mettiamo troppo Poi Poi Siamo a 3 milioni Tipo Questa qua Quella delle meteore Evoca meteore Come abbiamo visto prima Io intanto ho prenduto il telescopio Ecco qua No si sono baggato Ah no eccola Poi questa qua Raggia Rancia Queste Sort Questi raggi Ehm Ghiaccianti Che gongelano i nemici Tipo così potete abbassarlo Però C'è la 5 che Che è una figata assurda È un'arma poderosa Fa queste cose Che tipo One shot Anomale Poi invece c'è quest'altra Che è l'ultima staffa ragazzi Se io tipo Vado da quella Ma è troppo lontano Non riesco a prendere Questa staffa Va A ricerca E gli da una costa Ci mette tanto A ricaricare poi Però è una Cosa Non ci mette tanto Un po' ci mette Cioè se Cioè se spammi non ci mette niente Nooo quando finisci i colpi No è vero È vero che non posso passare Dalle loro porte Sono un hub Ehm Comunque Ehm Non so Non so come sia successo Questo bug mistico Dei 3.000 mole Dei 3.000.000 Dei 3.000.000 Dei 3.000.000 Eh 3.000.000 Ehm 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 Guardate qua Tutte le scopere Abbiamo quella normale Quella wind Quella fire E l'ultima che è la lighting Poi abbiamo pure Gire dentro le lipozzoni Che poi ve la facciamo vedere Beh almeno con questo bug Siamo riusciti Ah comunque per vedere L'ultime staffa Ma così con questo bug Siamo riusciti A farvi vedere tutte le cose Devi comprare l'ultima cosa Di comprare Sì aspetta Quello è il tetto È corda Aspetta Che poi Tu ti puoi pagare Come l'altra volta Ehm Che ieri abbiamo giocato Da soli Comunque questo fa Un muro che serve Per incastrare i nemici Tu non ti puoi incastrare Se non ti incastri Però serve Molto per incastrare i nemici Mentre quest'altra Siamo così E lì mi la stasfera Ecco Scaccia i nemici Se magari mi funziona Ecco Spara queste palle E tira via Tutti i nemici Tipo voglio andare su quello Ehm 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 Dovrebbe scacciare Il nemico Se magari questo sdiota Non mi spara Quindi andiamo con le scope Abbiamo la prima Che molto Che Non è tanto veloce Come potete vedere Possiamo volare Con D Giriamo a destra Con A Giriamo A sinistra Con S Saliamo E con W Scendiamo Poi abbiamo la prossima La Wind Ok Normale E' molto normale Questa cosa E' molto Sono bugato Io sono tipo rotolato con la scopa Che è molto più veloce Della scopa normale Ehm Molto più veloce Della scopa normale Ehm Ehm Poi abbiamo Fire Che è ancora più veloce E' ancora più veloce E' ancora più veloce Della Wind E poi abbiamo l'ultima Che è praticamente qualcosa di Non so C'è proprio letale Guardate che velocità Cioè Renditi conto C'è impossibile C'è veramente veloce Che addirittura Può far laggare pure il gioco Se Tenete troppe cose aperte Oppure Guardami Oppure alcune volte anche far crashare Nel frattempo i rossi No Che cosa è successo ai rossi? Comunque Io c'ho poche staffe Non c'ho pure nulla staffe C'ho solo scopa C'è questo idiota Ne 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 Taglio un attimo Ok Ragazzi mi hanno ammazzato Doviamo Se mi segui Grande Che mi ha ammazzato Don peraltro Ma perchè ero baccato Quindi Adesso Non so baccato io No Meno male Però non usciamo quella scopa Hai hai la scopa quella Prendi quella normale Ah quella normale No la file broom Eh la file broom Vabbè Prendo Quale hai di scopa? File broom Ok prendo la file broom Adesso ragazzi sfideremo il nostro handie track A No quella file broom Così Non so Caro handie track Ehm Ehm Lo scala handie track È una gara di scope Chi arriverà prima Non so dove Vincerà Dove dobbiamo arrivare Di Ciccocco verde Via Aspè Nabo Devi fare il calm down Idiota Ah ok Moro io E c'è quello che ci vuole ammazzar Ohhh Ma sei nabo Ma sei nabo Ma si Ma sei nabo Proprio un po' Si muore sta arrivando un'altra ecco di prima quello di prima ti amo a un'altra cosa toccola la colla si perde l'ultima arma la prendo io no da marzo hanno ammazzato io ce l'ultima staff ma sotto ecco non riusciamo ne manca fare la gara perchè ci sono i tisi che ci vogliono male ci ammazzano un'altra volta guarda i milioni a te ci sono i milioni perchè no l'abbiamo lasciati a scorrere come nulla ah comunque non li ho fatto ancora vedere la cosa delle pozioni noi praticamente clicchiamo questo pulsante ci dice una pozione e ci dà la pozione ho avuto la ninja pochino che non so cosa faccia ma ok no è bella oddio c'è un tizio c'è un tizio portavacca oh entrano pure cioè si permettono pure di entrare e cercano di ammazzarmi cerca di congelare mi hanno congelato uccidelo uccidelo vendica vendi vendi vendica vendica mi ha ammazzato che hacker ora è un hacker hacker i'm so kill you you are you are you are you are you hacker cheating l'hai ucciso per caso? io ho 11 punti di uccisione sono un pro mi direi pure di prenderci quest'altra perchè è one shot anche se è abbastanza difficile da usare però è one shot male quella la cold brox prenditi la fire broom che dovevo fare la gara e comunque non sono riuscito a farvi nemmeno vedere la pozione perchè quel labo ci ha avuto male la voglio vedere io aspetta ho avuto nooo non ci credo ho avuto quel fortunato quella del riduzionamento sono bugato male ma che cazzo no eccomi dov'è ero la tenda ecco ti esci quale hai preso di scopo quella del fuoco? tutte e tre ho preso fire broom, wind broom e dobbiamo usare quella fire dove dobbiamo arrivare? dai verdi one dai rossi dei rossi one two three go tatatà non riesco a balla nooo ah sono il pro oh ciao ciao bello arrivato dai verdi adesso dai verdi aspetta ahaha ho rotto le balli la tata però è velocissimo oh c'è quasi impossibile da controllare c'è una corsa di vent over power si è arrivato perchè c'è un uovo oh c'è un uovo ma che cazzo c'è un uovo ahahahahah ahahahah stanno lì blu il uovo l'uovo ahahahah muori muori mi ha massacrato muori baldracco 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 oh dio no no fai lo la broom sono morto no sono passato dalla porta di quei baldracco no ci sono una ah ok ci sono una comunque vado a riprendermi la scopa e andremo dai verdi adesso perchè c'è un uovo eh te l'ho detto prima l'uovo c'è l'uovo c'è un uovo c'è un uovo raga c'è la gente ha veramente aspetti molto strani in sto gioco c'è l'uovo poi c'era uno con la faccia di angry birds poi c'era quello con quello poi c'era quello con quella eccomi 3 uno due tre via via sto arrivato arrivato questa volta è arrivato prima lui e c'è un tizio buggato che cosa bella uccidiamo questi sono più o meno come noi non c'hanno solo le pozioni eh si oh c'è un tizio c'è un tizio a sparare io non c'ho le staff non c'ho le staff non c'ho le staff mi devi aiutare le prendo una le rubo le ghiaccio ok posso congelarlo posso congelarlo mmm maldracchi maldracchi non c'è tempo ho capito ho capito faccio finta che non esisto io non esisto sono una pozione sono una pozione non esisto mmm no non ho congelato nessuna prendi quella poterosa ho preso quella poterosa ho preso quella poterosa ma poterosa sta allagando come non sta allagando oddio sei quasi morto sei morto povero peccato sono morto in volo e cambiamo modalità si ok ragazzi allora diciamo per questa modalità è tutto andiamo nella prossima modalità dell'oggi di oggi che cosa bella ok ragazzi siamo nell'ultima modalità proprio questa è proprio l'ultima proprio l'ultima di oggi siamo qua con andri eeeh guarda eeeh se vi state chiedendo perchè abbiamo le maglie da carcerati perchè siamo in un'azione e siamo dei carcerati eeeh però voglio proporvi una qualche cazzo su ok non rispondate e il martello e il martello prendi lo prego lo prego spero che nessuno mi ha visto non mi sa che non mi hanno visto no no nulla non c'era lì eeeh vedi no io sto facendo palestra sto facendo palestra sto facendo palestra oddio ma nooo ma che bastardo mi prego no no dai ma questo è un bastardo non c'è nulla scappa 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 vado eeeh ho finito di andare a prendermi qualcosa da bere eeeh mi sa che mi ha visto quello che l'ho prendeva il martello così che appena le cose andate a dormire eeeh vado a dormire eeeh 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 prendo una cioccolata ho preso una colizia ho prendo neanche una bibita eeeh 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 what the fuck cos'è qua questo c'è il piccone c'è il piccone io c'ho piccone martello piccone c'è molto due piccone lo avete trovato il martello martello lo trattavo io lo trovo sotto alla macchina io cibo io c'ho una cioccolina ridicola mhm la ridicola ragazzi la ridicola è bevita migliore di tutto eeeh te la prendo guarda questo poliziotto cosa vuoi fare vuole entrare nelle gabbie non lo so potremmo sfrutt- eeeh è lasciato male ma sono in quattro ma dai è brutta eeeh oddio sei un poliziotto non fratello vedi oddio corri 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 tipo di quel miemot che ho rivedo non puoi rivedere l'acosa la terra in sera del polizio di aeree posso perciò un po' base eeeh basket 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 basca e poi evade vadiamo e lei mi sa che ti spara vero attreggio come ci spara si spara vuole farci vuole spararli infana io vado dentro a prendermi qualcosa posso stordire qualcuno non so se si può ah comunque c'è pure la modità per i vivasoli di diventare aggressive che poi usa anche la musa per combattere però non è che così ok potrebbe essere utile però normalmente c'è un po' inutile c'è una guardia puta come una guardia che tagli it's time for diner come una guardia che tagli da fuck fatemi uscire non mi fa prendere devo mangiare per venire voi ho questo tipo di cavolo le patatine comunque ragazzi appena riusciremo ad arrivare alla notte per dentro le gambe noi usiamo il nostro martello piccone per uscire ecco ti è andrì io c'ho pure ah va devi occhi e andrì e la nn è la città a 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 è lasciato questo xd ha scritto ci sono pure i citizen, hanno quelle vasi oddio oh stanno sperando a col tizio una parambi, siediti che così non so stavano di nulla forse, a volte la gente c'è proprio i poliziotabi troppo man c'è quello che vuole alzare col tizio mangiamo mi sa che ti hanno visto no non mi hanno visto oddio maledicola oddio stanno sparando un tizio che si vetti come io mangio un po' le patatine e come si scrive devi mettere chat devi scrivere chat devi mettere sul tastino della chat quella è scritto no stop kill me forno ecco ok ultima ridicola devo prendermi qualcos'altro buona la merenda ehm vedi che c'è quello di sombulizio lo so ora non ti sto sparando ma che caso oh la bestia ah vabbè ho detto c'era la merenda buona merenda e ti sparano non era buona una merenda che vuoi e me le prendo due perché buona non me la posso prenderse è che buona questa brutta c'è mai oh 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 io ci sono ti lascerò ancora non l'ho ammazzato a riforma a dormire non ti devo non uscire sto scendo no io ci stai dron dove andiamo eh si deve aprire c'è uno coltello davanti marato è quello che me l'ha frega da me una bestia ma strada oh sono tratta ma non mi dovete spara si sta spara mi io non lo prendo non lo prendo non lo prendo non lo prendo oh che si può non so cammini ah vede cosa puoi fare poi si lascia oh io mi stavo puntando stranamente e questo è lontano oh non so stavio mi sta mandando idiota oh eh roman ho il lacoso cosa il piccone il martello si grande è proprio c'è entrare c'è entrare no c'è una città ma what the fuck dove sei non lo fa vedere che sennò ti ammazzano ai gruppi ma sono quello per cui si andi l'ho fatto vedere oh mi sa che molti picchiano speri l'ho fatto vedere l'entra in scala qualche c'è quale si numero uno ma non ti devi se le noti metri a fianco devi scaricare non ti devi mettere sopra non devi scaricare spaccare grande manco ricordati di minamina minamina non ti metti a cacare madonna eh non lo fa quello serio guardo staglia ma stanno stanno in cucina perché la delle baffate davvero ma poi ci spacca devi devi stare tanto tempo perché pure io ci ho messo tempo dai stagliatini 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 madonna sei contento ora adesso ti faccio vedere dove stavano le armi guardami tatatatata però comunque non mi sa che non più capire vieni vieni fuori dalla botola magica ok vieni seguimi dobbiamo andare con la casa leggi leggi la cosa che ha scritto quello chi è this food is terrible no non di no aspetta sto un attimo laggando si lagga perché deve caricare la lampa aspetta aspettami e poi ci posso che era scritto come on se tu sei fri sto battendo le mani se tu lo senti le mani se tu veri se lo ti batti le mani e che poliziote tu seguimi un attimo che devi venerdì qua dove sto andando io no dove vai dobbiamo andare nelle armi mi ricorda la macchina si però prendi prima le armi prendi prima le armi con la freccia devi spanarla un attimo che sta laggando ok l'hai spanata aspetta aspetta ti faccio vedere io dove stanno le armi un attimo voglio un attimo allora vedi questa vieni qua qua io ho preso questa qua no io ho preso questa qua tu prendi ho preso tutte e due io c'è questa che dovrebbe essere tipo un fucile invece questa è ah ce n'è un'altra è arrivata un'altra che è scappata vabbè però mica ci ammazza cioè siamo le vale le vale le fucili come si utilizzano è difficoltà abbiamo trovato la k la k è vero a k e il ring minitor che non lo userò perché un fucile invece questo qua ma perché sta volando entra entra entrano nel drone ma se sono rotte le ruote ok è un'altra non so se può sentare salta sopra vai a mettere no sono dentro sono dentro ok come ci guido credo no sono dietro io sono dietro sono dietro eh no aspetta una ruota cosa brutta spawn a k spawn a k ok ve la guido io si sto guida ok dove imprimere x per tira x dovrebbe essere non fa non dovrebbe non fa x ah fuck che è successo ho fatto spawn ma non c'è dovresti mettere x per farla partire ah ecco un attimo una gomma ma dai ma si mette le gomme eh andiamocene a piedi si va conosci i fucili conosci a k guarda che fai fammi ricaricare che abbiamo perso immagini che in questa casa ci sono le armi eh magari attenta che possono essere venire poliziotti perché c'è cosa per rifarli siamo in patto usciti no ci sono nulla che cosa mi sa che sono vedere la porta e l'arma e gli aprir no un'altra sicura questa speriamo speriamo ma ci dobbiamo e fucile che figata ma la facciamo appena stai ma che ce ne frega noi del del coso della panno non c'è niente un duvano di sparo e questo che dovrebbe solo fucile a pompa spam e siamo perché un po' spalmare con questo odio chi è questo pazzo con la macchia se tu non c'è c'è tu no non ho mai è una macchina posseduta sucive il video 4 euro basso non è bene 10 minuti 10 minuti allora non c'è niente si è stavolta ragazzi è questa questa è tutta la macchia ma pochi si hai lol ho trovato un'arma dove sei dove sei in una casa non so quale ci sono la porta bellissima c'è anzi è una chiesa è una chiesa qui c'è sicuro un'arma ci sono quattro piani anzi due due non c'è non c'è niente ma non c'è cosa volevi che c'era però io vorrei uscire da chi ma che cosa c'è qualcuno che ha la macchina della polizia mi sa che è un poliziotto prendi fila entra entra e' mia ce l'ho la macchina della polia dove sei dove sei no quello è un poliziotto eccoti quello è un poliziotto mi sa no so io io guido ok io guido io sono master è un poliziotto spara spara c'è un poliziotto un poliziotto spara lì massacrato che grande vabbè li facciamo il culo con questi ma che c'è ne frega noi andrei siamo ai vasti tantissimi è vero x start stati siamo a quattro vado guidando ragazzi io e' nuovo gioco di corse no è un po' difficile da guidare però è un po' difficile da guidarla però poi ruota da solo alla visuale ho usato tipo ruota da solo no prena non ti scasciano non ti scasciano non ti scasciano è finita l'arma come si ricarica come si ricarica con arra arra poi ragazzi il prossimo episodio faremo le quarte perchè siamo riusciti ad evadere quindi cercheremo di non fare nessuno questa è la chiesa questa è vero è una chiesa c'è vero è pure strana come chiesa hai visto è un po' strana dove sono tutti in realtà è una chiesa strabica questa è una chiesa strabica è meglio sono bugato scendi giù si è gesto male comunque non capisco anche questo è il potente del credo c'è un altro con l'auto del poliziotto no che è successo ce l'hanno rubata ma che palle balordi da quella parte c'è un'altra macchina andiamo andiamo io sono armato perchè possono sempre venire poliziotti invece il martello ma il martello non serve per chiare è meglio il fucile si spaventano si spaventano si spaventano così ma pure con il fucile si spaventano tan tan c'è uno a vedere ecco l'icto spawna car perfetto che guida tu io perchè io sono un master nella guida la mia esperienza io sono la prima persona la mia esperienza in dracmania mi ha portato a guidare anche su roblox no però un po' nab come ha un po' di fi è difficile guidare però da 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 eh allora da una visuale è meglio ok ho allontanato ma non so se si può avere la visuale in prima persona si io la tengo ah tu teni la visuale in prima persona si è davvero passeggero ah ecco guarda qua sicuro c'è un'arma ecco è vero temete così la prima visuale quando il fucile poi mi ve lo spazzare a Roma però voglio tenere così la visuale per come c'è un caffè una chitarra, il cavallo colo d'alcusso vera guarda proviamo a mettere il volume suona si sento un policciotto mi sa che un policciotto prendi l'arma mi sa che un policciotto mi sa che è un policciotto il carico mi sa che ci vuole sera mi sa che un policciotto ci sono policciotto spara il pello non riesce a spargare uscita uso la traccia di te morta un'altra aspettaccio ora sparo la sparo posso uccidere acqua era il momento della merenda è morta tut 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 è morta adesso è andiamo andiamo con la macchina della polizia ok WTF che cazzo è successo l'hai vista è volata mi so spaventata è volata lui ha fatto per lui è stato un jumpscare per me è stata la cosa più epica delle risate a lui è successo il jumpscare perché si perché io ti ho visto proprio che si stava avvicinando boom esploda non so se ne vuole un'aria c'è quella tipa la che ci vuole rampare le pare ma quanti siamo siamo tre che siamo i vasi noi due siamo dei po' è un altro tizio no ci sparano oh ma porca istia mmm poliziotti dove sono? non me la risparo nessuno corri risparo con questo dove sono? aspetta mi metto in prima visuale magari eh so qua è qua questo no no mi sta ammazzando mi sta ammazzando aiutami mmm un altro poliziotto ma porca aperta quanti sono? scappa sto lagando sto lagando sto per mu- no no non dirmi sei morto pure io madonna mi sono morto no sono spaventato fuori senza la maglietta però a porca fu io senza to sparali c'è una c'è una pistoletta da cazzo dove sono i nostri megafili? dove sono i nostri... ma... non me scappiamo e io sto ammazzando mi stavo riuscendo ad ammazzare uno stavo riuscendo ad ammazzare uno ricarica ma porca bestia mi hanno ammazzato ma porca bestia ma porca bestia se ne hanno ammazzato male fagli andare fagli andare fagli andare mettiti qua no perchè ci vuole investire ma poi c'è un baggatto scappa odi perchè ci si scopre il mio corpo interno il mio corpo interno il mio corpo interno perchè sto spawn a car dai però adesso abbiamo dei delle pistolette dobbiamo andare a prenderci di nuovo le armi quelle là di prima no 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 dobbiamo riuscire a farci vedere ai polizziotti ok e stanno andando via polizziotti vedo la loro macchina che napi ferma fermati ok scendi andiamo a prendere le armi ma io sono troppo la visuale l'ho allargata troppo io ea rimettila come prima eccola ecco le nostre mangarmi io mi prendo pure l'altra per sicurezza io tutte e due l'ho presa io ce ne ho tre perchè ho la pistoletta e il cazzo la la che e anche ecco questo fucile e il tempo della della cambiamo macchina cambiamo macchina si andiamo facciamo razzismo ecco parte no si è sbocato no si è sbocato ma c'è là la nostra macchina buona ma stanno andando indietro e si sto tolto e ma che cazzo puoi esplodere no macchina torna da noi torna da noi torna da noi lava di macchina prova 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 in mio verso col fucile guardia si lo so ti ho fatto prima ho fatto vedere sembra un gioco di sparatore dai vengi a scattare non puoi entrare ci sono io ma non mi riesci non puoi guida clic start ok sto staranno ah yeah cosa bella cosa bella stiamo partendo non scontriamo l'altra auto proviamo a fare cosa andiamo di nuovo dalla polizia ehi prova a salvare tutti l'uomo l'ucidia oggi ho notato la polizia ma non più il mattello adesso ma come la stazione è una macchina ok spero di uscire ecco la stazione tante tante c'è oh stanno i vrendoli grandi stanno i vrendoli se ci sono noi siamo i citi non so se se non so se è una cosa buona oppure no la povara o c'è altro ma non risparare non risparare poveretto appena uscita non non ringrazio si mi vuole con la pistola stavolta stavolta ah non so la pistola del cazzo attento attento che ci vuole la polizia attenzione prendi prendo il fucile eh cioè il fucile si prendo il fucile il fucile la pompa si puliva io sto esco il fucile a pompa io mi ho messo in prima visuale mi era meglio ciao ciao mi sa che è abbastanza buona adesso sto ricorricando sto ricorricando l'altra arma vedo oh ho visto un policciotto oh mi sa che guarda gli altri policciotti buona no no c'è un antipè ah mi stai vestendo ah fuck ma mi stai vestendo oh ma bestiame dove sono dove sono dove sono ammazzala ammazzala no che è successo ha preso sono morto no ti ha preso perché ho usato le manette ha preso cercherò di venire a salvare no hanno chiuso un cancello peccato peccato c'è di nuovo allora ragazzi vediamo che possiamo finire qua un attimo che voglio provare una prova intanto facciamo proprio dei master pro vero anzi vero e nel prossimo video faremo di nuovo il prison life faremo le guardie questa la prossima volta e cercheremo di non fare vadere il si va lordi che cercheranno sempre di vedere e noi voglio provare se riesco a denari amore della cento posto no se posso far ragazzi ricordiamo di spolliciare di commentare e se un nuovo viviamo a 20 like se non posso più entrare passando il centro si perciò quello cesso questo è brutta per questo video è tutto spolliciare e commentate cosi ha deciso di modalità lui di valori passa dal canale di andytec per iniziare a fare qualche video magari non so se farlo i roblox e comunque per questo video è tutto da me andytec personaggio pagato e tutto e pompa a tutti